e qui c'è everybody la luce non cambia granché e c'è ciuffo un po ribelle eccoci qua lo è privati da stefi quindi mi sembra circa dieci giorni questo è un breve video per italiani italiani brava gente quindi a dieci giorni circa ecco da questa elezione importantissima e molto importantissima lì dalle parti del quirinale è un brevissimo video ecco per ripetere e quindi in questo inizio di anno nuovo gregoriano ripetiamo noi del rinnovamento ecco ripetere ecco quello che abbiamo proposto nel nostro progetto visto che stanno cercando con le torture anche in casa stanno cercando con le provocazioni le minacce continue persino le aggressioni nella via del quartiere per noi che siamo stati perseguitati io in modo particolare quindi mi hanno un po manomesso abbastanza il lavoro vendendomi dei dispositivi taroccati ho avuto molta difficoltà nel lavoro quindi a dieci giorni dal quirinale un video particolar modo per gli italiani che se il progetto ha dato ispirazione in tutto il mondo vedete e quindi ripetiamo contro i calunniatori ecco noi che siamo del rinnovamento ovviamente nello spirito ecco rispetto più o meno a 45 50 anni fa ecco tutti i settori nei quali ecco abbiamo proposto il nostro rinnovamento a volte con successo a volte con grandissimo successo e a volte insomma con parecchia più lentezza e vedete qua modo particolare ecco primo problema mondiale dell'acqua risolto e della fame abbastanza con le mie soluzioni aspettiamo conferme ripeto qui natura in modo particolare gli alberi e per andare poi ecco alla politica geniale ultimamente definito definito mi un po umanista ecco viste le condizioni molto molto dure della vita anche se ovviamente mio metodo è abbastanza severo abbastanza perché per ottenere risultati e qua e ripeto sono tutte le soluzioni quindi le piante nelle città fumicate cose ripetute quindi il brevetto della bici per me è eccezionale brevetto antincendi altrettanto eccezionale insieme ecco tutte le altre soluzioni quindi comunque sia dal risparmio di acqua che in italia in casa in casa era già enorme scusa era già enorme lo spreco non solo nel settore pubblico ripeto il 50 per cento di spreco ma anche nelle case era enorme la possibilità di risparmio che non facevamo ecco insieme a tutte le soluzioni ecco dall'abbigliamento e quindi a una certa diciamo una facilità ecco barba collo e quindi anche gli stessi ciuffi belli e ribelli una certa facilità nella gestione con l'abbigliamento alimentazione i giusti integratori gestione della vita in generale ecco che non è trascuratezza ripeto non è trascuratezza e è questo oltre al progetto su fogli ecco è il progetto sul web ripeto a tutt'oggi quindi 14 gennaio per noi questa è l'era del rinnovamento adesso cercherò di correggere alcune parole perché mi hanno causato parecchia parecchia persecuzione e vedete comunque questo è il progetto online dal 2018 ecco lì da quando noi più o meno iniziamo a far ricorso del rinnovamento e quindi sono parecchie parecchie soluzioni ecco all'insegna anche della pace nonostante ecco ci siamo un po pentiti di lavorare per la pace ne ho ci ho rimesso ecco ci ho rimesso in modo ci ho rimesso ci ho abbastanza rimesso e è questo invece il blog con le ultime amministrative per noi ecco la nostra politica geniale ecco umanista tra virgolette per noi ha stravinto ecco in italia europa e nel mondo con le nostre soluzioni ripeto che hanno risolto nonostante dispositivi taroccati e pochi fondi a disposizione ecco rispetto ad altre organizzazioni quindi con pochi fondi abbiamo fatto la differenza risolvendo problemi anche storici e questo era per precisare ecco a dieci giorni dall'elezione del quirinale ho già fatto due tre c di rom che sto cercando il modo ecco di commercializzare commercializzare perché tra capitalismo e comunismo ecco ci sono delle delle altre vie ecco possiamo usare possiamo chiamarle moderate possiamo usare altri termini io ho usato genialità io ho usato umanista per insomma condizioni dure a volte che terribili ecco non solo in italia ma nel mondo in generale e questo era per ricordare ribadire comunque sia noi restiamo in piedi la salute va molto bene nonostante calunnie terribili siamo stufi di dover contrastare metterò nel cd rom ecco insieme al metodo che riguarda ovviamente l'ambito del rinnovamento e quindi spirituale e di salute quindi nei cd rom insieme a varie soluzioni che hanno avuto grande successo in italia nel mondo a dieci giorni dal quirinale ecco ripetiamo questi concetti noi andiamo sempre avanti è una situazione molto molto caotica per certi versi terribile con con queste informazioni che che ci danno in continuazione è molto molto ambigue grazie dell'ascolto è sempre avanti con stefi Grazie! 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 Grazie!